Ehi, ciao creatura meravigliosa, grazie per essere qui. Sono Paolo Cericola della Scuola di Respiro di Roma e di Parma. Ti interessa migliorare la tua vita, la tua salute e il tuo benessere? Ovviamente penso di sì, visto che sei qui. Ti propongo di farlo con Scuola di Respiro Online, il primo e unico programma di coaching online su come fare da sola a casa tua la tua seduta di rebirthing avanzato o di respiro dalla memoria base. Intanto, che cos'è il rebirthing e cos'è il respiro dalla memoria. Il rebirthing è un metodo rivoluzionario di respirazione consapevole che è nato intorno al 1963 in California, in America, da parte di Leonard Orr e oggi questo metodo è usato da milioni di persone in tutto il mondo, con notevoli benefici. Il respiro dalla memoria invece è un'evoluzione apportata da rebirthing che ho portato io, questa evoluzione, nel 1995, dopo 15 anni di uso personale con il rebirthing tutti i giorni fatto sulla mia pelle. Il paragone tra il rebirthing e il respiro dalla memoria è un po' come l'aereo dei fratelli Wright e il respiro dalla memoria può essere paragonato al Concorde o al moderno aereo militare o alla nave spazio-temporale Star Trek. Il rebirthing e il respiro dalla memoria è una metodologia molto semplice e proprio per questo è anche molto potente ed efficace per produrre cambiamenti e miglioramenti consistenti attraverso un esercizio di respiro-respirazione consapevole molto molto semplice in realtà. Questo programma, il programma Scuola di Respiro Online, è anche un potente metodo per migliorare la propria consapevolezza e la propria coscienza. Ma tu ti chiederai quali benefici ne ottengo perché dovrei fare questa cosa? Maggiore energia vitale, maggiore lucidità mentale, maggiore consapevolezza, miglioramento di problematiche fisiche, pieno di gioia, sperimentare la gioia negli stati più elevati, miglioramento di problematiche psichiche, maggiore senso di pace interiore, maggiore leggerezza nell'essere, rilassamento come non hai mai sperimentato in vita tua, miglioramento nelle relazioni, prima aiuto verso se stessi, ma poi verso gli altri, che sia la moglie, il marito, il partner, gli amici, il lavoro, amore verso se stessi e molto molto altro ancora. Queste invece sono alcune delle cose che troverai all'interno di questo programma. Come abbiamo imparato a respirare? Come funziona la mente reattiva? Esempi di reazioni, piuttosto che spiegazioni sulla differenza tra pilota e pilota automatico, come fare da soli una seduta di rebirthing avanzato o di respiro dalla memoria base, e le scorciatoie per evitare di ripetere gli stessi errori che mi sono costati anni, quindi un sacco di tempo, di esperimenti e anche di soldi, perché anche questo poi conta nella vita. Queste sono alcune delle cose che troverai all'interno. Se ti interessa di scoprire come stare meglio, come vivere più serenamente, più energia, serene di più, puoi fare questa cosa qui. Vai sotto nel form che trovi in fondo a questa pagina, metti il tuo nome, la tua mail, spunta al quadratino dove c'è le condizioni per la privacy e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!